Trofeo Città di Brescia, signore e signori. Una delle gare più prestigiosi del circuito Andra 23 Elite del ciclismo. Siamo qua in questa splendida città e ora vogliamoci la gara. A presti, 5, 4, 3, 2, 1, via! Siamo i nostri posti, ma anche altri per usi, che incontriamo il ciclismo di classiche di New York. Luisa Antonio Gomez-Curusa, 3 uomini al comando al termine del primo dei 21 giri da coppiere. Numero 58 al comando, Parker con il numero 209. Mosca, questo è il numero 219. Guarda in frattura. Guarda in frattura. Guarda in frattura. Te si dore like. Guarda in frattura. E' piccanti come parte E' piccanti come parte Niente! Bella! E' piccanti! Borraccia! BORRACHA che sta riprendendo Cazzola dunque sono Ida e Tre riconosco la maglia della Viglio Gallina con la maglia della Cipollini e qui di gruppo dunque questo è il gruppo si sarà staccato un po' di attacchi lungo la discesa 1 minuto 45 il vostro ritardo stiamo esattamente a metà gara 12 giri al termine oraccia 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 stiamo esattamente a metà gara in questo momento tre uomini al comando per l'altro nostro risparmio oraccia per l'altro della rosa posta della Viris e Riccardi della Vega che stanno animati nel minuto di nuovo di questa gara oraccia per l'assiere da discene del castello ragazzi 1 minuto 15 secondi il vostro ritardo dai tre vatti in strada la rosa rimanda da 9 giri al termine e le brughe dentro l'abbè sensato era un vatero che era il più stimato perché non aveva condivido il fatto di fine che è alla forza 9 giri al termine sono centrati nella seconda parte di gara rispetto 40 secondi 40 secondi 40 secondi 40 secondi 40 30 30 50 10 10 secondi finita la prima 50 secondi 40 30 40 40 40 40 40 41 41 42 42 42 41 42 43 42 42 43 dai 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 che sei lì perché per te non è sacra il trucco di città di Brescia bravo 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 magnaverde al comando 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 Buongiorno a tutti, Lessa Rosa, ultimo giro. Sì, Sottotitoli, con l'ospirazione. Grazie a tutti.